da Papa Francesco. Cammineranno insieme come fanno ogni giorno al campus biomedico di Roma. Irina e Albina, colleghe ed amiche, al di là delle polemiche, hanno scelto di raccontare la loro storia in questo video. La prima è infermiera di origine ucraine, al centro di cure palliative. La seconda è specializzanda al corso di laurea infermieristica ed è nata in Russia. La loro amicizia va oltre la guerra. Io sono rossa, io amo l'Ucraina. La famiglia di Irina è rimasta nel paese ferito dal conflitto. Mi sento tutti i giorni e cerco di supportarli, di aiutarli con quelle mie possibilità. Hanno affrontato insieme l'emergenza Covid e ora continuano a condividere la fatica e la passione per la loro professione. La forza dell'amore supererà tutto. Io sono russa e io sono contro la guerra. Arriveranno al Colosseo supportate dalla forza della loro amicizia. Mi resta solo la speranza del fatto che finisca più presto tutto quanto. Non è giusto che i bambini nel ventunesimo secolo devono nascondersi nei sotterrani e vivere nei bunker. E in questo momento il mio cuore è che ho con ogni bambino ucraino e con ogni madre ucraina. Anche per loro stasera in silenzio e in preghiera porteranno la croce. Siamo all'andamento del Covid nel Lazio.